Mario Comensoli è morto qui nel suo studio della Rousseau-Strasse di Zurigo cinque anni fa, ma c'è ancora chi caparbiamente da quel 2 giugno del 1993 infila fiori nella cassetta postale, deposita mazzi di sempreverdi davanti alla porta. Le sue opere sono tra la gente, come qui al ristorante Cooperativo, ritrovo storico della sinistra di Zurigo, che accolse gli esuli italiani dell'antifascismo dai fratelli Rosselli a Nenni a Silone, dove festeggia le sue vittorie la giunta rosso-verde della città o dove al primo piano si riuniscono le associazioni degli emigranti. Oppure qui nel quartiere nobile e antico sulla collina di Lindenhof, dove ha sede la fondazione Comensoli, voluta dalla vedova Hélène prima di essere stroncata dal dolore a meno di un anno dalla scomparsa del pittore e dove in una galleria sono esposti oli e disegni continuamente rinnovati. Qui sono anche conservate la biblioteca di Comensoli, una documentazione e perfino la bicicletta con la quale per 40 anni dall'altro capo della città raggiungeva lo studio alle sette del mattino, rimanendovi poi solitario fino a sera a dipingere quei quadri che per lui erano la continuazione della vita. Il suo ultimo catalogo di disegni è dedicato a Palma e Giovanna, le sorelle immigrate dalla Romagna, che nel 1922 lo prelevarono dall'orfanotrofio luganese della misericordia, gracile e malaticcio, allevandolo in questa casa di Molino Nuovo. La madre infatti era morta pochi mesi dopo averlo dato alla luce e il padre, Albino, un materassaio, non aveva il tempo di dedicarsi al piccolo. Mario Comensoli frequentò la scuola in quello che era allora il quartiere proletario di Lugano. Le esperienze con quell'ambiente affioreranno più tardi nella pittura. Apprendista parrucchiere, garzone, manovale, Comensoli comincia a dipingere e vende i primi acquerelli ai turisti. Frequenta la scuola del nudo di Carlo Cotti a Casserina e l'atelier del pittore e scultore Giuseppe Foglia che gli consiglia di lasciare il Ticino e di andare a Parigi. Con una borsa di studio della fondazione Torricelli si trasferisce a Zurigo dove sposa Helen Frey e dove segue corsi di disegno architettonico e di storia dell'arte. Sono gli anni della formazione. Comensoli vive tra Zurigo e Parigi dove viene conquistato dalla pittura picassiana. Lo testimoniano queste opere realizzate nella seconda metà degli anni 40. Al museo zurighese del Helmhaus espone grandi tele che rappresentano un momento importante a contatto con i moderni. Sono caratterizzate da un rigore formale che rimarrà sottinteso anche nelle opere successive e lo salverà dalla tentazione naturalistica quando la figura umana prenderà il sopravvento. Esiste un filo rosso nella sua opera che sul piano formale è determinato da una ricerca permanente, da un continuo rinnovarsi e poi c'è una costante nei contenuti rappresentata dal suo umanesimo, dalla sua sensibile partecipazione alle vicende dell'uomo, dal suo positivo rapporto con la vita. È la grande svolta nella pittura di Mario Comensoli. Mentre attorno a lui trionfa l'informale, mentre i concreti predicano l'ortodossia geometrica, Comensoli si interessa alla sorte degli umili, al loro dramma. In una rara testimonianza indica le ragioni profonde di questo suo andare controcorrente. L'impegno per un artista del nostro tempo è un problema morale, di una partecipazione alla vita a cui sono portato istintivamente, a cui sono sempre rimasto fedele, fuori da ogni opportunismo intellettuale. E nasce, anticipato da opere più raccontate come questa, il bambino, del 1954, il ciclo dei lavoratori in blu. Un amico di Comensoli, il libraio ticinese di Zurigo, Sandro Rodoni, vive questo momento a contatto con il pittore. Cercava di dipingere la realtà, l'attualità del nostro paese e scoprì che la grande attualità, la grande realtà di questo nostro paese in quegli anni era la presenza di lavoratori stranieri che venivano qui per lavorare e che davano una caratterizzazione speciale a tutto il mondo della produzione svizzera, mondo dell'edilizia, delle fabbriche, i servizi, eccetera. Erano tutti determinati dalla presenza di questi lavoratori stranieri. Questa pittura, scriverà Carlo Levi, nasce da una profonda convinzione nei valori insieme della figurazione e in quelli dell'uomo, da una profonda onestà e chiarezza morale. Il tono è fraterno, il punto di vista è quello di chi vive e sente sullo stesso piano e cerca non una curiosità, ma una somiglianza. Nella libreria di Rodoni, Comensoli discute spesso con lo scrittore calabrese Saverio Strati della condizione degli immigrati. La direzione del PC e Carlo Levi lo invitano a Roma alla Galleria San Luca e per il pittore sarà un'esperienza traumatica. Nonostante un successo di vendite, si sente espaisato e non sopporta l'arroganza di Renato Guttuso. Specialmente Guttuso, anzi soprattutto Guttuso, ebbe anche per certe opere di Comensoli delle espressioni non troppo felici. Mentre da una parte Levi e altri avevano una netta disposizione positiva, valida per l'opera di Comensoli, da parte di Guttuso, ci furono anche dei tentenamenti e delle espressioni non solo favorevoli. Sarà l'ultima mostra di Comensoli in Italia. Il pittore scopre invece spazi espositivi nelle fabbriche. Al centro della Volvo, a Liss, alla Maschinenfabrik di Rütti, porta le sue opere tra i lavoratori. Il suo modello preferito in quegli anni è un operaio, Vittorio Vigani. Io praticamente mi sentivo una certa sponda, per la sua sicurezza nel disegnare e tutto. E lui era anche tranquillo in un certo senso, perché mi ripeteva sempre, se prendo te, metto sul quadro con facilità, perché la pittura mi obbedisce. Se prendo un altro non riesco, devo sempre, a tribulare tutto. Mario Comensoli viene premiato a Zurigo dal Centro d'Arte di Cultura Italiana assieme a Max Frisch, autore del saggio con la famosa frase «Volevamo delle braccia, sono arrivati degli uomini». La scelta è caduta su Comensoli, si legge nella motivazione, per l'esaltazione della modesta vita dell'immigrato colta nei suoi momenti lirici e drammatici. Ma intanto, nuovi stimoli muovono il pittore, nuovi temi si offrono alle sue sensibili antenne. Sul finire degli anni Sessanta, la società è profondamente mutata e Mario Comensoli, che era un appassionato cronista della sua epoca, si interessa alla gioventù in rivolta e cambia le modalità espressive della sua opera. La contestazione giovanile è infatti da lui vissuta come una festa. È un momento ludico, ottimista della sua pittura. È una festa dell'Eros. Mario Comensoli si appropria di simboli del quotidiano, rovesciandone il significato, assume cadenze cromatiche tipiche della pop art e il suo diventa un controcanto beffardo ai miti in circolazione. Jamile Weber lo invita a illustrare la sua galleria di Zurigo con i temi del femminismo alla moda e nasce la Cappella delle contraddizioni femminili, un grosso successo. La rappresentazione di Mario Comensoli, scrive un critico, è tutto e suo opposto, maschile e femminile, ottimismo e pessimismo, esibizione sessuale e relativo depotenziamento. Sotto la regia della Weber, nella galleria si intrecciano dibattiti ripresi dalla televisione, cui partecipano femministe, casalinghe, sociologhe, deputate a Berna. La Proelvezia decide di ripetere l'esperimento a Parigi sotto il titolo Spazi 76. Ero molto fiera che la Proelvezia trovasse la mostra tanto interessante da volerla riproporre alla Port de la Suisse. Riprodussero esattamente le proporzioni della galleria, le colonne portanti, i locali. In pratica, la galleria, con le opere di Comensoli, fu ricostruita tale quale a Parigi. Per me fu una grande soddisfazione. Altra incursione di Comensoli in Francia alle settimane del cinema di Poitiers. Qui porterà i dipinti che ha già presentato al Grand Hotel di Locarno in occasione del festival. È il cinema visto come fabbrica dei sogni, i riflettori puntati su chi cerca illusioni dorate in prima fila. E i protagonisti sono i figli degli immigrati venuti dal sud, i ragazzi della seconda generazione. Gli stessi giovani li ritroviamo nella serie Discovirus. Ritorna sotto altre forme il tema dell'emigrazione come controcultura. I ragazzi meridionali inurbati, con la loro gaia spregiudicatezza, rompono le convenzioni della compassata società zuingliana. Ma come Pierpaolo Pasolini in quegli stessi anni, Comensoli avverte che il potenziale alternativo di quei giovani di fronte alla cultura di massa è soltanto illusorio. Cerca perciò disperatamente altri modelli trasgressivi tra i punk, tra i ragazzi della generazione no future, che allinea nelle sue tele portandoli nei musei di Sangallo, Glarona, Aarau e Locarno. Proprio a queste esistenze precarie, affida le speranze di una possibile redenzione di fronte a mutamenti epocali dominati da tecnologie esasperate e dalle insidie della globalizzazione. Il pittore intanto gode ormai di vasta popolarità in Svizzera, anche se secondo il conservatore del Kunsthaus di Zurigo, la critica non ne ha ancora completamente realizzato l'importanza. È un grande realista svizzero e i realisti nella nostra cultura sono rari, soprattutto in pittura. Nella Svizzera del dopoguerra, Comenzoli è una figura unica e penso che debba ancora venire il momento in cui si riconoscerà pienamente il suo valore. Momenti della vernice al Kunsthaus di Zurigo delle ultime opere di Mario Comenzoli, una mostra curata nel 1989 dallo stesso Magna Guagno. Per il pittore dei lavoratori in blu, un tardivo trionfo anche mondano. Finalmente la critica, anche quella più reticente, si scioglie nell'applauso. La neue Zürcherzeitung cita per esempio al cospetto di questo container che si rovescia, dicendo che il quadro rimanda a una postmoderna hache de la glisse, a un'epoca senza appigli e senza certezze. Sulla soglia dei 70 anni, Mario Comenzoli sta attraversando forse il momento creativo più importante della sua vita. Intanto però, dal suo atelier poco sopra la famigerata stazione del Letten, Comenzoli può osservare il dilagare della scena zurighese della droga che pone il suo quartiere in stato d'assedio. Il pittore sente l'urgenza di raccontare quel dramma mobilitando la sua capacità di tradurre in visioni oniriche anche lo squallore dell'esistenza. Contro le pareti Comenzoli a linea dipinti di un lirismo straziante. I protagonisti sono i punk di qualche anno prima che hanno perso la loro fisicità sfrontata e che si tuffano nell'abisso come angeli maledetti. Poi, il pittore avverte poco a poco il cedimento delle forze come un beffardo gioco del destino e riempie le tele dei propri fantasmi. Le pleureuse è l'ultima sua opera. Nessuna autocommiserazione, soltanto occhi falsi e cattivi pagati per piangere. Una presenza che accrescerà la sua solitudine il giorno del commiato, il 2 giugno 1993, nello studio della Rousseau-Straße. La Rousseau-Straße La Rousseau-Straße